Roma De Martino, Cilento Channel, qui a Vallo della Lucania, presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in occasione della conferenza stampa di presentazione della rassegna estiva Rifugi di Cultura. Nell'ambito di tale progetto, finalizzato alla valorizzazione dei rifugi, quali i centri promotore della cultura delle terre alte, coinvolto il territorio dell'ente parco nell'evento Cervati Crocevia di Culture, un evento organizzato dalla sottosezione del Club Alpino Italiano di Montano Antilia, che si terrà sabato 19 e domenica 20 agosto 2017 presso il Rifugio Cervati Casa Rosalia. Il suo rifugio accoglierà questo evento? Esattamente, quest'anno abbiamo sposato l'iniziativa promossa dal CAI a livello nazionale, 32 strutture su tutto il territorio nazionale, noi siamo l'unica struttura in Campania, abbiamo deciso di dare questo titolo Cervati Crocevia di Culture, perché il rifugio, pur sorgendo nel comune di Piaggine, si trova in una zona di confine dei tre comuni pedemontani che insistono alle falde del Monte Cervati. Sì, le escursioni partiranno la mattina del sabato, dopodiché a ora di pranzo si arriverà al rifugio, ci sarà un pranzo con i prodotti della ruralità contemporanea, i prodotti dei coltivatori custodi del parco. Nel pomeriggio ci sarà il dibattito, la sera ci sarà un'altra grigliata, un momento anche festoso, con i Picarilli, un gruppo musicale, e la Cantina delle Arti, che è un gruppo teatrale, che si occuperanno di due spettacoli. La mattina del giorno dopo, la domenica, andremo al santuario, ci sarà la messa alle ore 11, pranzo sempre con i prodotti tipici a cura dell'Arci Confraterni, da nel pomeriggio un altro momento festoso, e poi la sera avremo il tramonto delle eccellenze, andremo sulla vetta più alta per vedere il mare più bello della Campania. Il CAI, appunto, come ho detto più volte, si propone l'obiettivo di avvicinare sempre più persone alla montagna. Naturalmente noi accompagniamo dai piccoli ragazzi del Cilento fino ai più adulti, quindi giovani e meno giovani sui montagni. Il rifugio Cervati è stato scelto non a caso, perché la collaborazione e la fattività dei gestori, di Riccardo, Peppino e di Ali, da qualche anno offre ai tanti escursionisti e turisti nel Cilento l'unico presidio in alta montagna. Il progetto, appunto, è un progetto culturale, ma non solo, perché vicino nelle pertinenze del rifugio vi è anche un bivacco, quindi con gli amici del rifugio Cervati e anche altre associazioni escursionistiche ci stiamo impegnando per avere un primo bivacco censito dal CAI, è un locale, diciamo, sempre aperto, che tutti gli escursionisti ne possono suffruire in caso di emergenza. Riccardo già vi ha detto un po' tutto della Due Giorni, io non posso fare altro come Presidente del Re Balpino di invitare giovani e meno giovani a partecipare a queste Due Giorni, che sarà un momento di festa e non solo, c'è il connubio tra natura, cultura e all'aspetto anche religioso.